È stato aperto in località marcianese il nuovo centro cottura del servizio di rifezione scolastica di Lanciano che produce 600 dei 1800 passi serviti ogni giorno nelle scuole di infanzia e primarie della città. I menu sono indicati dall'ASL provinciale, sono basati sulle necessità di bambini che in parte presentano anche problemi di intolleranze varie. Ed ecco allora programmi nutrizionali studiati appositamente per celiaci, vegetariani, intolleranti al lattosio, alle uova, al pesce, al mercurio. E c'è anche il menu etico per quei bambini di altre fedi religiose. Il servizio mensa è molto importante, spiega l'assessore all'istruzione Giacinto Verna, perché costituisce anche un deterrente contro la dispersione scolastica. Sì, un altro fiore all'occhiello di questo servizio di ristorazione è che insieme alla ASE, al servizio SIAN con la dottoressa Di Tommaso che cura appunto le diete, le diete quelle normali tra virgolette anche e soprattutto le diete speciali, noi abbiamo fatto in modo che il servizio fosse a 360 gradi, quindi abbiamo puntato sulla qualità. Il servizio che costa le casse comunali 3 milioni e 600 mila euro in tre anni è stato dato in gestione con bando pubblico alla cooperativa Labor. Le tariffe sono 15 e sono basate sull'ISE, ma gli uffici comunali le stanno ricalcolando in base all'utenza. La tariffa media è di 2 euro e 91 centesimi, la massima arriva a 4 euro e 61 a pasto.